o buongiorno si vede che sono andato a lavorare no? l'ambientazione è quella che è non posso mettermi su in redazione a starnazzare diciamo così al di fuori del mio contesto di lavoro posso farlo in macchina lo faccio naturalmente qua con voi quindi balza torno al lavoro ma ovviamente continua anche la sua opera di video di colloqui anche se direttamente non mi potete rispondere ma lo fate scrivendomi e io leggo io leggo sapete che io leggo oggi però volevo portarvi su quello che è stato un discorso che ho affrontato nel mio servizio di rientro a sport mediaset non so se alcuni di voi l'hanno già visto altri lo vedranno magari sul sito sport mediaset se viene pubblicato lì vabbè comunque ve lo riassumo velocemente compito nostro è sicuramente quello di dare notizie ma anche quello di andare anche un po oltre certe volte le notizie è quello di configurare o prefigurare un possibile schieramento o possibili schieramenti di juventus sulla base delle possibili operazioni di mercato attenzione mi riferisco a costic depai e paredes intanto facciamo il punto della situazione perché costic dovrebbe arrivare quest'oggi questo mi è stato detto quindi potrebbe sostenere già le visite mediche domani potrebbe in toria entrare nel nove euro dei convocati per la partita contro sassuolo di lunedì uso sempre il condizionale ragazzi perché non mi piace vendere verità che non siano assolute è chiaro che siamo molto vicini alla conclusione di questo affare però no finché in tutto non viene formalmente sottoscritto configurato eccetera io uso sempre la formula dubitativa però diciamo che costic ha moltissime probabilità di essere il nuovo interno della juventus per quanto riguarda depai e paredes siamo in una situazione legata magari ad altre che devono concatenarsi a queste mi spiego per quanto riguarda paredes quindi restiamo comunque nell'ambito del centrocampo è un c'è l'accordo col giocatore si sono parlate juve paris san germain diciamo più o meno c'è l'accordo anche sulla cifra del cartellino ma il tutto può essere sbloccato solamente dalla cessione di rabiot al manchester united 18 20 milioni quelli che sono non si sa esattamente quale sia la cifra al momento ma questi soldi verrebbero impiegati per l'acquisizione di paredes c'è ottimismo sia per quanto riguarda il trasferimento di rabiot sia per quanto riguarda appunto poi l'acquisizione di paredes però dobbiamo aspettare e qua con i tempi comunque secondo me andiamo oltre la prima giornata stesso discorso che si può fare per depai che potrebbe essere il nuovo attaccante della juventus qui la condizione della quale peraltro però depai sta da tempo discutendo col barcellona è che si liberi a parametro zero cosa significa che deve rescindere il contratto col barcellona guadagna già 10 milioni e 400 mila euro netti l'anno il signor depai che è già un ingaggio abbastanza alto chiaramente la juve mirerebbe oltre a ridurre l'ingaggio o magari a spalmarlo ad acquisirne il cartellino gratuitamente unica possibilità è che depai si svincoli dal barcellona ne stanno parlando da tempo il giocatore e la squadra questo a prescindere dall'interesse della juventus diciamo che adesso l'interesse primario della juve su depai essendo sfumato al 99 per cento morata io mi tengo sempre il 99 per cento voglio sempre andare caldo questo è il quadro della situazione attuale ok poi i nomi di frattesi l'uscita di luca pellegrini sono tutte altre situazioni che possono eventualmente fare da corollario ma i temi principali del mercato della juventus sono questi che vi ho detto adesso in questo mio servizio delle 13 che eventualmente potrete andare a ripescare ho prospettato le possibili formazioni della juventus tenendo eventualmente conto dell'arrivo di questi tre giocatori cioè kostic depai e paredes qui vado con l'eco quindi richiudo la portiera della macchina altrimenti un casino e anche perché il parcheggio è semideserto va bene allora la juve può adottare con questi tre giocatori sostanzialmente tre moduli o meglio tutti e tre i moduli diciamo così più ricorrenti per esempio il 352 cioè depai può essere è un attaccante sicuramente una punta centrale no ma è un pochino più di manovra rispetto è più plasmabile la manovra rispetto per esempio ad un vlaovic che abbiamo visto che ha un po di difficoltà quando deve tenere sulla squadra depai è forse più portato per questo tipo di gioco ciò che ciò non significa che anche a vlaovic sia richiesto questo tipo di atteggiamento in partita attenzione però normalmente possono essere l'uno sostituto dell'altro quindi alternativi ma possono anche giocare assieme nel senso che vlaovic più inserito all'interno dell'area depai un pochino più di movimento in un 352 che potrebbe prevedere da una parte di maria nella linea della centrocampo 5 da una parte di maria dall'altra parte costic poi in mezzo se arriva appunto paredes paredes con pogba da una parte locatelli dall'altro oppure zaccaria dall'altra ovviamente qua si tiene conto del recupero di pogba mi sembra un centrocampo è una fase diciamo offensiva abbastanza buona sulla carta è prefigurate vela così tutti in ogni schieramento che vi prospetto vi date conto anche poi del dell'arrivo di federico chiesa che andrebbe ovviamente in ballottaggio con costic così come quadrado potrebbe andare in ballottaggio con di maria dall'altra parte poi c'è il 442 che è sempre molto affidabile un 442 ancora una volta con di maria e costic con pogba e paredes centrali blauvic e depai là davanti a fare i due attaccanti anche questo potrebbe essere molto affidabile oppure c'è il 4231 depai potrebbe arretrare leggermente i due centrali di i due di centrocampo paredes e pogba di maria da una parte depai costic o chiesa va da sé che se fai il 433 o depai o blauvic e gli esterni possono essere tanti quadrado o chiesa di maria chiesa di maria costic quadrado costic insomma le soluzioni a questo punto sarebbero tantissime e tutte molto interessanti è chiaro che ci siamo divertiti in questo no perché non c'è ancora nulla di concreto in nessuno dei tre giocatori che vi ho nominato però qualora dovessero arrivare tutti e tre la juve avrebbe tantissime soluzioni offensive da poter prospettare con poi oltretutto appunto l'arrivo di chiesa e pogba quindi un organico che dalla metà campo in su sarebbe sicuramente di tutto rispetto dalla metà campo in giù vi ho già detto di un luca pellegrini che a quanto pare è in uscita tornando un attimo al centro campo rovella sembra destinato ad andare via in prestito si parla del monza si era parlato della salentana quindi in questo momento sarebbe lui il prescelto per lasciare la juve o comunque uno dei prescelti che siano due o che siano uno solo tra fagioli rovella e miretti in questo momento sembra che rovella possa lasciare la juventus in prestito al monza vediamo anche questa situazione da seguire poi ovviamente siccome ve l'ho già detto e lo ripeto anche oggi non ripeterò anche stasera e domani all'infinito almeno fino alla partita di no ma anche dopo l'aprendolo sassuolo vediamo un po questi sono i nomi questo è l'organico ancora in fieri ma poi quello che conta è che l'allenatore metta l'organico in condizione di fare il proprio dovere che non vuol dire vincere perché ci sono tante le varianti di fronte ad una partita no all'interno della partita che possono cambiare il risultato ma vuol dire avere un'identità è tutto iscrivetevi al canale naturalmente ci vediamo questa sera ciao